Il Natale si avvicina e il momento in cui tutta la famiglia si riunisce, si riunisce con i propri affetti, i propri cari, ebbene ci sono anche loro perché i nostri animali sono membri della famiglia e per tutti noi rappresentano qualcosa di veramente importante e anche per questo io vi dico se decidete di allargarla questa famiglia con un piccolo amico a quattro zampe andate vi prego nel canile più vicino alla vostra città e lì dietro le sbarre troverete un piccolo amico che aspetta solo una nuova opportunità, quella che voi saprete regalargli e lui vi ricompenserà con il più grande degli amori proprio come faranno questi due piccoli cagnolini con chi darà loro una casa e quindi per adottare questi meravigliosi cagnolini potete scrivere a portamiacasa chiocciola dalla parte deglianimali.it oppure telefonare direttamente a voi al mio numero 345 15 74 313 Buon Natale dalla parte degli animali!